Ci domandiamo ma perché Dio attua l'incarnazione del suo figlio, manda il suo figlio sulla terra? Lo manda perché vuole che noi diventassimo figli adottivi suoi. Il peccato aveva distrutto la presenza dell'uomo su questa terra, aveva sconvolto il progetto di Dio, aveva mandato Dio tanti profeti ma l'uomo rimane sempre insensibile e allora decide di mandare il figlio suo. E' necessario però che vi sia una madre, la madre Maria Santissima. Tu sei benedetta fra le donne e Maria risponde io sono la serva del Signore. E da quest'istante Gesù prende possesso del cuore di Maria e comincia la sua avventura umana. Comincia quindi con l'annunziazione, questo progetto meraviglioso di Maria, madre del figlio di Dio, piena di grazia. Maria da quel momento diventa madre di Gesù e si pone subito in servizio della redenzione. Ciò che Eva aveva legato, Maria scioglie e si apre un cammino spiedito, un cammino meraviglioso della saldezza. Quali sono state, ci domandiamo, le manifestazioni di fede di Maria? La prima manifestazione di fede l'abbiamo con Elisabetta. Non sappiamo come sia arrivata da Elisabetta perché il viaggio era di tre giorni nel deserto. Forse si riunì ad un'altra carovana oppure vi erano dei compaesani che l'accompagnavano. Non sappiamo. E' certo che Maria lascia la sua abitazione di Nazareth e va alla casa di Elisabetta. E' la prima esperienza al di fuori della casa di Nazareth. E nella Natività è Maria che presenta il suo figlio ai pastori, che presenta il suo figlio ai magi, che presenta il suo figlio unigenito. E in modo speciale presenta il figlio suo al Tempio. e ascolta quelle parole sibilline del vecchio Simeone. Sarà un segno di contraddizione. E una spada trafiggerà il tuo cuore. Per una madre non è simpatico. E' affatto impossibile sopportare una simile espressione. Una spada per colpa del tuo figlio trapasserà il tuo cuore. E' file gioia. E' file donne di Dio. Ha detto sì a Dio, pur affrontando l'incomprensione della gente, ma ha detto sì a Dio. E il vecchio Simeone, una spada trafiggerà il tuo cuore. Maria affronta anche l'opinione contraria di Gesù alle nozze di Cana. Gesù dice a Maria che lo sellecita a fare qualcosa perché il vino è venuto a mancare. A mancare che cosa posso fare io? Non è ancora giunta la mia ora. E Maria chiama i servi, fate quello che vi dirà. E i servi eseguono quello che Gesù dice di riempire le idre di acqua. E quell'acqua diventa vino. San Francesco, parlando di questo Natale di Gesù meraviglioso, bellissimo, dice noi siamo madri di Cristo. Quindi Maria è madre di Cristo, ma anche noi siamo madri di Cristo. Siamo madri di Cristo quando lo portiamo nel nostro cuore, quando lo portiamo fisso nella nostra mente, quando Gesù è con noi, è sempre con noi, non lo scacciamo mai, come magari gli ebrei fanno quando Gesù nasce a Betlemme. Siamo madri di Cristo quando compiamo le opere buone, le opere della carità, quando aiutiamo chi soffre la fame, quando aiutiamo chi piange per le sofferenze della malattia, quanto c'è la gente che soffre l'incomprensione tra marito, moglie, figli, genitori, eccetera. E noi diamo una buona parola, noi siamo madri di Cristo, ma principalmente noi siamo madri di Cristo quanto riceviamo la comunione, quanto riceviamo l'eucaristia. Quel Gesù viene dentro di noi e fa parte di noi. Noi siamo le madri di Cristo.